Buongiorno, buon sabato mattina, benvenuti a Occhio ai Giornali, come sempre iniziamo insieme la giornata sfogliando i giornali quotidiani, il resto del Carlino, Corriere Adriatico e Messaggero nelle loro edizioni locali però naturalmente guardiamo prima il santo del giorno e poi le previsioni del tempo oggi sabato 9 maggio, San Gregorio Vescovo, il sole è sorto alle 5.49 e tramonterà alle 20.20 e guardiamo le previsioni del tempo, partiamo dalla nostra postazione che ci dice che al suolo c'è una temperatura di 17 gradi quindi sicuramente una temperatura per quest'orario confortevole, quindi andiamo verso un aumento della temperatura nel corso della giornata guardiamo come si prospetta il cielo in questo momento grazie alla nostra webcam, potete vedere, sono un transito di nuvole però il colore del cielo è sicuramente di un bel azzurro carico guardiamo cosa ci dicono anche gli amici della protezione civile il bollettino meteo per oggi, sabato, appunto il cielo sereno, poco nuvoloso con maggiori addensamenti sui lievi nelle ore più calde della giornata quindi nelle ore centrali e un transito di nubi nella serata vedete c'è anche la simbologia della pioggia locali rovesci o temporali pomeridiani però più che altro sul crinale appenninico vediamo invece la giornata di domani domenica ecco, di dasca lì è molto scarne quindi cielo sereno o poco nuvoloso precipitazioni assenti e temperature senza variazioni di rilievo quindi veramente una giornata bella anche per lunedì, vedete, la cartina parla da sola sole pieno, sereno, poco nuvoloso senza alcuna precipitazione allora partiamo dalle notizie affrontiamo il resto del Carlino la prima testata che guardiamo partiamo con una vicenda, un fatto di cronaca che ha visto protagonisti due ragazzini ieri a Pesero per un incidente stradale insomma per il quale hanno avuto seri problemi serie conseguenze, sono gravi in ospedale due ragazzini vanno contro mano con lo scooter il tutto è avvenuto alle 14 di ieri all'incrocio tra le vie Giolitti e la via Costa ancora dalle pagine del resto del Carlino rimaniamo nella cronaca siamo in cronaca nera aggredisce forze dell'ordine arrestato, i carabinieri indagano un nigeriano che chiedeva soldi in un supermercato è stato denunciato un altro nigeriano miraccia di morte il controllore che gli chiedeva il biglietto sull'autobus rimaniamo nelle pagine che riguardano il resto del Carlino di Pesero perché insomma mal comune, mezzo gaudio come si suol dire per le strade se Fano piange Pesero non ride non sono messi benissimo neanche a Pesero e nelle strade della provincia una strada presa in considerazione dalle pagine del resto del Carlino è la strada da Montefeltro terremoto tutti i giorni i sobbalzi dei camion nelle buche che fanno tremare le case qui vedete appunto una di queste buche incriminate questo è il transito quotidiano che avviene appunto in questa zona come vedete qui ci sono i lavori insomma un'odissea infinita arriva il Giro d'Italia ma la strada è un disastro e quindi il turismo ne ha già risentito ecco se questo è il biglietto da visita non è uno dei migliori quindi smottamenti e anche frane sulle strade che sono adiacenti a questa zona quindi anche la strada panoramica come vedete questo ciclista veramente deve fare salti mortali per non beccare buche che possono mettere a rischio anche la sua incolumità in una giornata di passatempo passiamo alle pagine che riguardano Fano del resto del Carlino la vicenda che lascia veramente senza parole quella che ha visto questa disavventura di questo portatore di handicap al quale è stato portato via il Mobility e allora ladri senza cuore rubano il Mobility a disabile a mano sorpresa per questo 28enne Roberto Lacoppola il sindaco veramente indignato l'abbiamo sentito ieri anche ai nostri microfoni durante il Tg Occhio e la notizia non ha esitato a definirlo un atto di vigliaccheria pura e qui lo vedete appunto il disabile vicino a Massimo Seri vediamo come si riuscirà a far sì che questo ragazzo rientri in possesso di un mezzo che gli possa assicurare una mobilità all'interno della città e quindi fuori di casa e poi un caso di una 23enne africana che non voleva i dottori sono arrivati è arrivato il 118 la donna incinta cade in casa ma rifiuta l'ambulanza il sindaco di Sorungarina è perplesso i medici però dicono noi abbiamo eseguito i nostri protocolli ancora dalle pagine del resto del carlino rimaniamo a Fano un polmone verde si inaugurerà nei prossimi giorni è quello di Villa Uscenti che ha conquistato il suo giardino l'inaugurazione oggi pomeriggio alle 16.30 quindi è oggi e vedete qui insomma la zona riportata riportata al verde pubblico sono attese tante famiglie e quindi anche ai passeggi domani sono attese famiglie una festa per amarli e curarli un altro polmone verde della nostra città adiacente proprio al centro che sarebbe un bel luogo da frequentare e da rivalutare anche per manifestazioni e per anche tante altre cose insomma un piccolo polmone verde adiacente al centro di Fano la politica la pagina della politica ce ne sono un po' di tutti i colori qui candidati 5 stelle fratelli d'Italia alleanza nazionale si presentano l'infinita lista delle priorità quindi veramente un sciorinamento di tutte le priorità che il nostro territorio avrebbe bisogno raccontata appunto da tutti gli schieramenti insomma che fanno un po' un tabellino delle emergenze intanto arriva Nencini il sottosegretario arriva in città per sostenere il candidato Boris Rapa creativi al lavoro tanti giovani dietro la telecamera Fano Fucina di cortometraggi in programma un fotoprogramma del corto dei ragazzi dell'Olivetti abbandoniamo le pagine del resto del Carlino prendiamo in considerazione quelle del messaggero vediamo il messaggero anche qui mette in primo piano una vicenda legata alla migrazione profughi al lavoro il sì di Ricci il sindaco pronto alla firma d'intesa per impiegare gli immigrati in opere e mansioni foto notizia dedicata al coach della VL il basket si avvia a un match per la salvezza la VL con caserta e il coach polinici è una questione di nervi quindi tutto legato alla tensione nervosa e poi qui un caso ho clonato 700 password segnalato lo studente hacker si vantava all'assemblea ma finisce all'ufficio dei minori in questura gas luce gas o luce famiglie costrette a scegliere che tipo di bolletta saldare tutte e due evidentemente rappresentano un costo impegnativo e quindi sempre storie più allarmanti sono emerse dal congresso federal consumatori che si è tenuto ieri a Pesaro andiamo all'interno di queste pagine del messaggero che riguardano Pesaro e Fano marche multiservizi il comune vende per rifarsi il look pubblicato il bando per la vendita delle azioni entrate stimate dalla vendita di queste azioni per 2,5 milioni che serviranno per riqualificare un po' la zona del mare e del centro protestano le operazioni perché il rischio che la società perda la maggioranza pubblica è elevato in questo caso ancora dalle pagine del messaggero l'abbiamo visto nel titolo di apertura della pagina che riguarda appunto Pesaro il sindaco i profughi lavoreranno Ricci appunto annuncia la firma del protocollo di che cosa si occuperanno si occuperanno di verde e arredo urbano l'accordo sarà siglato il 18 maggio il primo cittadino invitateli a pranzo e ascoltate i loro drammi questo è l'invito di Ricci ancora nelle pagine del messaggero rimaniamo qui una pagina che riguarda anche tutta la provincia ma tutte le marche il carnevale di Fano è un carnevale regionale sicuramente con importanza ma anche nazionale vista la sua la sua età la data slitta l'apertura ma all'espo è una conferma ci sarà il carnevale di Fano la porta del territorio sarà inaugurata solo a giugno ma si accelera per colorare la giornata del protagonismo quindi il nostro carnevale presente allora vediamo la pagina di Fano del messaggero anche qui la questione legata al furto della mobility per il portatore di handicap e dice i ladri si sono presi le mie gambe perché insomma con quelle quattro ruote lui aveva una mobilità accettabile insomma all'interno della città poteva uscire di casa e insomma fare ciò che tutti quanti noi facciamo nel modo migliore possibile Villa Uscenti festeggia il suo parco pubblico e Fanesi e Aguzzi dibattono su chi debba prendersi i meriti arriva il vice ministro Nencini e quindi insomma questa è la pagina di Fano del messaggero guardiamo l'ultima testata che come sempre tutte le mattine vi facciamo vedere che è quella del Corriere Adriatico la pagina di Pesaro qui si affronta una insomma una situazione quella della ZTL e sosta sempre riportata alle croniche un po' un po' anche di recente pronto il piano di revisione Briglie pensa a 10 ore d'aria niente auto dalle 19 alle 5 nelle vie esterne alle limitazioni di accesso e quindi il centro storico di Pesaro aveva il suo master plan su 400 posti auto cancellati per seconde e terze vetture Pesaro Parcheggi chiede al comune di ripensarci questo l'occhiello ancora dalle pagine del Corriere Adriatico però quello che prende in considerazione Fano sanità liste d'attesa da ridurre questa è una priorità sicuramente che è trasversale a tutte quante le forze politiche che riguarda tutti noi cittadini ecco la formazione 5 stelle il senatore Morra tiene a battesimo la nuova sede quindi andiamo anche qui verso le regionali e ultima pagina che prendiamo in considerazione per oggi anche qui nel Corriere Adriatico annessione alla Romagna l'ultimatum di Zaffini ex lega nord che ora ci riprova con fratelli d'Italia anche Allam Cristiano Magdi Allam ha presenziato a questo start di candidatura presentando anche un suo libro e insomma interloquendo anche sulla questione Islam e Occidente bene grazie per essere stati in nostra compagnia per questa rassegna stampa del sabato è tutto naturalmente Occhio e Giornali tornerà lunedì mattina alle 7.30 e questa sera naturalmente non scordatevi il nostro TG Flash in versione sabato alle 20.30 ma se volete rimanere sempre aggiornati su tutte le nostre notizie in temporale c'è sempre il nostro portale occhianotizia.it grazie e buon sabato a tutti voi a tutti